Primo gol con la maglia della Samba, che emozioni? Sono veramente contento, sono contentissimo, sia perché è arrivato in una partita dove non riuscivamo a fare gol, però sono veramente contento, direi che si è visto la risultanza, infatti ero veramente emozionato. Ti sei visti una posizione nuova? Come ti sei trovato, a parte il gol ovviamente? No, no va bene, va bene, era una posizione che avevo già fatto in passato, comunque poi dove c'è bisogno gioco, quindi per me va benissimo anche giocare in quella posizione. Come ti sei sentito a segnare il gol del pareggio? Eh, come ho detto prima è una grande emozione, sono veramente contento perché è servita la squadra e pensiamo già comunque a mercoledì, peccato non aver vinto questa partita che onestamente ai punti ce la meritavamo e niente, come ho già detto pensiamo all'Arezzo di mercoledì. Che cosa è mancato secondo te? Oggi secondo me sulla prestazione non si può dire niente, arrivi un po' di cattiveria davanti della porta, anche un po' di sfortuna, che magari dobbiamo essere bravi a portarci alla nostra parte, però veramente oggi abbiamo anche dato tante occasioni da gol, quindi non saprei, questa comunque mi sembra la strada giusta. napolapadoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone